Weee che cactus fai! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci Xyuderone! Daieee! Weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi come vedete Fortbyte numero 65 ragazzi si trova in un set del seminterrato ragazzi a basso costo! Come sapete il set è a condotti confusi in una delle due case ragazzi, quella più a sinistra scendendo da condotti verso il lago! Mi raccomando andate lì e prendetelo! Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video! Noi ci vediamo alle 17 in live! Ciao!